Con l'onorevole Roberto Desini, la prima domanda è scontata, perché la ritroviamo nel centro-destra? Per un semplice motivo, perché in questi anni dove ho fatto delle battaglie importanti nella coalizione di centro-sinistra mi sono reso conto che purtroppo sono rimaste inascoltate e siccome ancora di più mi sto rendendo conto che al di là delle appartenenze politiche, partitiche, ideologiche, quello che contano sono le persone. Ecco il motivo per il quale ho deciso di candidarmi in una lista civica nel centro-destra perché soprattutto per quanto riguarda in ambito sanitario non voglio avere niente a che fare con chi ancora una volta ricandida l'assessore Arru, per esempio, che tanti danni ha fatto in sanità. Onorevole Desini, Sardegna 2020 è una lista che comprende soprattutto candidati che non sono legati ai partiti? Sì, è una lista civica completamente nuova che ha due elementi che la caratterizzano. Delle persone con nessun precedente, nessuna appendenza penale, assolutamente pulite e con molte persone che vengono dagli enti locali. Basti pensare che su 60 candidati, 14 sono sindaci e attualmente in carica, poi abbiamo diversi vicesindaci, assessori comunali e consiglieri comunali. Ecco il motivo per il quale mi trovo, ho deciso di andare con Sardegna 2020 e una collocazione politica di carattere civico nella quale mi riconosco appieno. Lo scontro con l'assessore Arru negli ultimi mesi è apparso feroce, molto duro. Può sintetizzare il perché? Il mio confronto, scontro con l'assessore Arru è stato molto duro e si è accentuato nel momento in cui, dopo degli atteggiamenti e delle prese di posizione corrette nel rispetto delle regole, ho visto che sono state sistematicamente disattesi a discapito di quelli che erano gli interessi dei cittadini e sono stati adottati dei provvedimenti, soprattutto per quanto riguarda il nord-ovest della Sardegna, che non potevano essere sottacciuti e soprattutto non potevano essere contrastati. L'ultimo in ordine di tempo, ma non per questo meno importante, anzi tutt'altro, è stata la chiusura del Policlinico Sassarese, dove l'assessore Arru, a seguito di mie interrogazioni e sollecitazioni per discutere del problema in aula, non si è minimamente degnato di rispondere e soprattutto ha preso delle decisioni che ritengo scellerate, sia da un punto di vista occupazionale, da un punto di vista sanitario e da un punto di vista sociale, perché la chiusura del Policlinico grida vendetta e mi auguro che dopo il 24 febbraio possiamo mettere a posto tutte queste errori madornali che sono state compiute da questo assessore. La sanità è in effetti il tema più sentito in questa campagna elettorale. Il candidato presidente al centro-destra, Solinas, ha già detto che il primo atto, se vincerà le elezioni, sarà proprio smantellare l'ATS. Sì, questo ha detto il nostro candidato presidente Solinas, ma ha detto anche una cosa ancora più importante che io condivido e sostengo con convinzione, è che al di là del numero delle aziende, noi dobbiamo cercare di mettere prima di tutto gli interessi dei cittadini, dei nostri pazienti. Questo dobbiamo fare, dobbiamo avere una sanità che sia vicina alle esigenze dei cittadini, corrispondenti a quelle che sono le loro necessità e soprattutto dobbiamo mettere da parte gli aspetti ragioneristici, essere molto più umani e cercare di venire incontro a chi purtroppo sta soffrendo. Onorevole Desini, parliamo di sport. In Sardegna ci sono importanti realtà che andrebbero sostenute meglio, anche economicamente naturalmente. Secondo lei, come si potrebbe intervenire, visto la sua precedente esperienza che l'ha portata a promuovere anche degli appuntamenti importanti per delle leggi particolari? Ho già detto al nostro leader della lista Sardegna 2020, Stefano Ottunis, che qualora dovesse avere l'opportunità di essere rieletto, avrei l'onore di ricoprire il ruolo di consigliere regionale, uno dei miei primi atti sarà quello di ripresentare la riforma in materia di sport che ho presentato nel giugno scorso e che per volontà di una parte politica, in particolar modo del Partito Democratico, non ha avuto il suo corso. Perché qualora dovesse essere approvata quella legge, noi passeremo dagli attuali 8 milioni circa di euro destinati allo sport e ai 32 milioni annuali destinati allo sport. Io penso che con tutti questi danari potremo fare il bene e l'interesse dello sport e degli sportivi sardi. Chi vincerà le elezioni è perché Cristian Solinas è un candidato presidente più convincente degli altri? Questo mi piace chiederglielo. Le elezioni le vinciamo ovviamente sicuramente noi del centrodestra, della coalizione di centrodestra sardista autonomista. Perché Cristian Solinas? Prima di tutto perché è un 42enne che ha già maturato esperienze importanti sia a livello di enti locali ma anche in senno al Consiglio regionale, avendo fatto il Consiglio regionale, l'assessore regionale e attualmente senatore. Io penso che la politica dei professori e i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo necessità di persone che conoscano la politica e che vivano e diano per la politica. Penso che il candidato presidente e dal lunedì prossimo il nostro futuro presidente Cristian Solinas abbia tutti i requisiti per essere un ultimo presidente. Intanto, onorevole Desini, ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. L'ultimissima domanda è questa. Perché votare Sardegna 2020 e il centrodestra? Perché in questa coalizione, nella lista Sardegna 2020 ci sono io, quindi votatemi, votate me e anche la nostra lista per un semplice motivo che il candidato presidente Zedda dice tutta un'altra storia. Però se notate qui l'autobus è lo stesso, i passeggeri sono gli stessi e è cambiato soltanto l'autista. Io ritengo invece che bisogna cambiare l'autista e anche tutti i passeggeri.